andiamo ai morti vai andrea la pistola è la tua pistola che io ho mangiato questa è la telecamera quindi vi posso riprendere anche mentre correte ok 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 anche questo quanto è alto questo? sceriffo mi puoi vedere il faccino? oh vi prendo? andate 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 vediamo come giocate guardate 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 Capisci? Ho dovuto fare tutte le altre in prigione. E' un po' bello. Certo. E' una manzata. Perché? Lo sai che fanno? Lo sento? No, Fabrizio. Guarda la camera. 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 Allora, sai che è successo? Allora, ci stavano i servizi. A me mi ha spostato tutti i voli di andare a Benevento. A Benevento. Allora, al sule, tu l'hai spiegato. Per avere i documenti nel centro storico. E mi ha spostato tutti i voli di andare a Benevento. E mi ha spostato tutti i voli di andare a Benevento. E mi ha spostato tutti i voli. Mi ha spostato tutti i voli di andare a Benevento. E mi ha spostato tutti i voli di andare a Benevento. Vuoi dirci? Sì? E io allora, che metterò tutti i voli di andare a Benevento. Sì, solo! Ma dove è la vostra Tana? Scoglie? In Tana. Non si può entrare! Non si può entrare in Tana? Sì. Mamma mia, ma qui sembra proprio una cosa della polizia, proprio. Sì, sembra proprio una polizia. Non si può entrare nella tana? No, perché l'hanno chiamata. Allora vi saluto, ragazzi. Adios. Grazie, sgatti. Questi due sono i cattivi. 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 E questo è questo, che dobbiamo ancora affidare. Sono i cattivi. Sono i cattivi. Sono i cattivi. Sono i cattivi. Ora, i cattivi, come se lo fate, la prima volta di voi, me la cosa. Ora, non so. Non so. Non è capace. Oh, che è una coppia. Sì, sì, sì. Figlio dell'acqua. Anche perché adesso, a punto, sono chiudere. Se lo chiuderemo, non si rafferà. Però sono più forti quelli gravi. Già è difficile. Bene, la più forte è questo. Questo è un peccato. Questo è un peccato. Questo è un peccato. Questo è questo. Questo è un peccato. Grazie a tutti